Ragazzi sono pronto a leggere il mio libro! Questo è il capo dell'aventatore giusto? Bene, il nuovo membro! Mettiamoci al lavoro! Bene ragazzi, oggi leggeremo i tre piccoli orsi! C'era una volta... Ehi, mi piace il tuo cappellino! Oh, grazie! Il nome di scopo, ma che hai fatto? Oh sì, quello... Non posso rispondere quando qualcuno cerca di flirtare con il mio uomo! Ehi, comunque, i tre orsi tornarono dalla loro passeggiata nella foresta! C'è qualcosa che non va, Freddy? No! Bene! Allora l'orsetto disse, qualcuno ha dormito nel mio letto! C'erano tre ciotole di porridge! Loro erano affamati! Finalmente! Ti ho tutto per me! Ho una gotta enorme per te, Freddy Fazbear! Baciami! Ho un tempo, un po' io qui dentro! Cosa c'è che non va, Freddy? Cosa c'è che non va? Hai deciso tutti i miei amici! In realtà li conoscevo solo da un minuto e venti secondi, ma... Basta parlare di loro! Parliamo... di noi! Cosa ti piace di più di me? Hai una bella postura! Postura? Sì, la postura è dove mi portarti per la tua salute! Eh? Sono vivo! Ora che sono fuori da questo video, tu e io possiamo stare insieme... Per sempre... Solo noi due! Egli aspetta, ma sta per partire l'altro! Non... Non lasciarmi!